Oggi sono stato moderatore a questo interessantissimo momento di confronto, chiamiamolo convegno workshop, dove si è parlato del tema Casa Clima principalmente, oltre ad aver visto poi altre iniziative e altri progetti molto interessanti. Matteo Rondoni, che è venuto a portare i saluti dell'Agenzia Casa Clima, ci ha presentato tutte le novità che riguardano la certificazione e vediamo ogni anno che da parte dell'Agenzia c'è sempre più questo interesse e questa voglia di avvicinarsi al lavoro dei progettisti, semplificandoli il più possibile, tenendo sempre presente che bisogna continuare a divulgare, a parlare, a trasferire conoscenza a tutti quanti affinché le nostre case possano emettere meno agenti inquinanti in atmosfera. Nella seconda parte poi abbiamo visto degli interessantissimi progetti di professionisti, abbiamo visto anche poi come nuove tecnologie possano venire in aiuto al nostro ambiente, abbiamo visto dei materiali naturali come il sughero, il legno senza collanti e come dicevo prima dei progetti che non emettono nulla in atmosfera, dimostrando che si possa proprio realizzare degli edifici in questo modo. Grazie.